Buongiorno Abbastanza chiare su quello che vogliamo fare Se quello che vogliamo fare in campo Consapevoli di avere davanti una squadra che sta bene E consapevoli che il fatto che ancora abbiamo sicuramente qualche problema Qualche situazione da risolvere Dovute alle partite ravvicinate che abbiamo avuto Qualche acciacco, qualche infortunio Quindi queste sono le situazioni Consapevoli però che andremo a Como a fare la nostra partita Proseguiamo con il signor Antonio Caravella Agenzia Stampa Italia Buongiorno Minister Dopo la convincente prestazione di Ferrara contro la SPAL Come diceva la collega Un'altra partita sicuramente interessante Con una squadra che ha un ruolino di marcia importante Perché in segare ha ottenuto 14 punti Quindi significa che come lei aveva già anticipato Anche sulle presenti conferenze stampe è una serie B Che chiaramente ogni partita ha una storia a sé Vedi per esempio la regina che viene a vincere in casa del Perugia Perde magari in casa contro il Cittadella Quindi sicuramente è un campionato insomma dove le insidie sono notevoli Dove ogni partita ha una storia a sé A me quando sento dire Ma la regina perde, vince a Perugia e poi perde Ma dove esiste oggi nel calcio? Non è come quando noi abbiamo vinto a Pordenone Poi il Pordenone è pareggiato l'ultima partita con la Cremonese Non c'è nulla di scontato Quindi è riduttivo parlare di partite sulla carta Molto riduttivo, non è da chi vive questo sport E fare certe considerazioni Quindi domani giochiamo contro una squadra Che non è costruita per un obiettivo sicuramente di bassa classifica Basta vedere gli acquisti, le situazioni È una squadra che sta benissimo È la più in forma del campionato Ha un attacco forte, ha un equilibrio È una squadra che ha un'idea Di contro il Perugia metterà in campo Quelli che sono le sue caratteristiche I suoi punti di forza Cercando di fare il massimo Come sempre Come sempre Ma siamo consapevoli Che davanti abbiamo una squadra importante Portiamo il massimo rispetto Come a tutti Però noi ce ne andremo a giochiare Continuiamo con il signor Forciniti Carlo del Corriere dell'Umbria Buongiorno mister Prima ha parlato di qualche situazione da valutare Dovuta a qualche acciacchio e infortuni Le chiedo se può andare un po' più nel dettaglio Magari indicare quale giocatori ha qualche problemino E poi Burrai è rientrato l'altra volta Ha fatto una partita di sostanza e di qualità Può reggere due partite ravvicinate No ma comunque abbastanza vicine E anche un giudizio su Matos Come lo sta vedendo in queste settimane Grazie Volevo continuare quindi avrei risposto prima alla Francesca Quindi domani non sono a disposizione Angela e Carretta Speriamo di recuperarli quanto prima Lo staff medico e lo staff dei prof Sta facendo un lavoro straordinario E poi ci sono delle situazioni da valutare Che sono quelle di Lisi Di Dell'Orco Di Rosi Di Burrai E di Matos Quindi queste sono le situazioni da valutare Perché le partite ravvicinate hanno creato delle situazioni Quindi io metterò in campo Chi mi garantisce il massimo E quindi Mezzo servizio Chi scenderà in campo Sarà pronto per giocare Quindi dobbiamo valutare queste situazioni qui Perché la partita richiede il massimo Quindi abbiamo diverse situazioni da risolvere E ce le risolverà lo staff medico domani mattina Per quanto riguarda che la domanda mi ha detto lei Io oggi sono contento di tutti i calciatori che ho nella Rosa Quindi il mio discorso lo amplifico agli altri Matos sta facendo un buon lavoro È arrivato più tardi degli altri Ha raggiunto una condizione diversa È stato malato Ma sta facendo un lavoro importante E come tutti i ragazzi Io in loro riconosco la voglia Il sacrificio Riconosco La passione che mettono in questo momento Per la maglia del Perugia E quindi anche lui Sta facendo quello che gli stiamo chiedendo Quindi Sono contento Proseguiamo con il signor Corrado Lo sito del messaggero Buongiorno mister Ciao Una domanda Il percorso fuori casa del Perugia Che è nettamente mio rispetto a quello in casa C'ha una ragione particolare Perché è una domanda che ci facciamo già da tempo Ma ormai c'è una sproporzione incredibile Rispetto a quanto avviene in casa È vero che ogni partita ha una storia assieme Ma c'è una ragione di fondo Oppure è una casualità ancora Grazie Corrado Io ringrazio Per la domanda Perché Non leggo Ma ne sento in giro In casa Io non credo che ci sia Un atteggiamento diverso Fra casa e trasferta Da questo punto di vista qui È logico Che è un dato di fatto Io sono stato molto chiaro Prima della partita di Spal E ho detto Che il cammino in casa ad oggi È un cammino non sufficiente Ok? Punto E questo lo riconosciamo noi Ne siamo consapevoli Però Quel cammino lì Stiamo lavorando per migliorarlo Ma non c'è comparazione Fra il cammino in casa e il cammino fuori Né atteggiamento Né sistema Né... Ha giocato quasi la stessa partita Che abbiamo fatto A Ferrara Quindi non vedo Quelle grandi differenze Da quel punto di vista lì È logico Che alcune partite Determinate dagli episodi O vuoi da alcune situazioni diverse Che possano essere Tattiche e tecniche Portano ai risultati diversi Ne siamo consapevoli Guardiamo avanti A oggi Il cammino è positivo Ma noi guardiamo A quello che vogliamo fare domani Cercheremo di migliorare Anche il cammino in casa Punto Però non ci vedo Una differenza Nell'atteggiamento Nel sistema Nelle situazioni Secondo me è più dovuto A determinati svolgimenti Delle partite Proseguiamo Con il signor Enrico Fanelli Tifo Grifo E a cperugia.com Sì mister salve Le chiedo che Al di là degli uomini Che scenderanno in campo Cos'è che non dovrà Mancare assolutamente domani Grazie La nostra squadra Il Perugia Sono quattro mesi Che siamo qua Quattro Che oggi è il cinque Domani è il sei Siamo partiti l'otto luglio Questa squadra Non ha mai sbagliato Nelle tredici partite ufficiali L'atteggiamento Perché l'atteggiamento È un atto mentale Evoluto Quindi Non vogliamo sbagliare Assolutamente mai L'atteggiamento Questo è chiaro Punto È la prima cosa E nel voler fare Poi mettere in campo Quelle che sono Le caratteristiche nostre Del Perugia Quello di essere Una squadra Di pressione Poi dipende dalle partite La puoi fare più alta La puoi fare intermedia La puoi fare più bassa Però c'è sempre Una situazione Tattica da leggere È quella di poter fare La partita Cercandola di dominarla Attraverso la gestione Attraverso L'intescambiabilità Attraverso Il possesso La gestione fluida L'intescambiabilità Dell'oroli La mobilità Tutti i concetti Tutti i principi di gioco Sui quali stiamo lavorando Da quattro mesi A questa parte Questo non va sbagliato Però Già dire non va sbagliato Vuol dire che Non abbiamo mai sbagliato Questo Abbiamo perso delle partite Ma mai sbagliato L'atteggiamento Quindi la prima cosa Mai quello Concludiamo L'ultimo giro di domande Con il signor Gabriele Ripandelli Di Calcio Grifo Buongiorno mister Lei qualche conferenza fa Ha detto Che la sua squadra Non deve cercare La continuità Ma i miglioramenti E nei social Che sono una sorta Di cassa di risonanza Dei pensieri I giocatori Spesso hanno detto Questa cosa qua Qual è quindi Il prossimo step Oltre ovviamente Ha la vena analizzativa Che chiede Il prossimo step Di crescita Alla squadra Ma per quanto riguarda Quello che si dice Sui social E tutto Non ne sono al corrente Perché non li leggo E quindi questo Questo non mi interessa Per quanto riguarda Quello che scrivono I miei giocatori Non leggo Perché ci parlo Nello spogliatoio È lì che mi interessa Determinare Lì mi interessa Determinare Non certo in altri posti Nello spogliatoio In campo Con le idee Con la voglia E quindi Il resto Io non passo Attraverso La continuità Quando sento dire Dare continuità Risultati O il mantenimento Secondo me La continuità La diamo solo Se riusciamo A migliorare Nella partita Di Ferrara Che abbiamo perso Che abbiamo vinto Gli spunti Per migliorare Ce ne sono stati Tantissimi E la continuità O il mantenimento Di questo percorso Passa attraverso Solo il miglioramento Il miglioramento Che facciamo Ogni giorno Qua Nel lavorare Ogni giorno Perché credo Che si possa migliorare E ottenere la continuità Solo Lavorando 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 Per migliorare Attraverso quelle che sono Le particolarità Le situazioni Da dover migliorare Di nuovo Francesca Mencacci Per la Nazione Nella partita Di Ferrara Mister è stato più Non 3-5-2 Almeno Per quello che si è visto È una soluzione Cioè un adattamento Almeno è sembrato Al modulo Che ho utilizzato Fino adesso È una situazione Riproponibile Oppure Variabile A seconda delle circostanze Io Francesca Le do In questo momento Questo Le dico chiaramente Che per me 3-5-2 4-4-2 4-3-3 Sono i numeri di telefono Dei cellulari Prefissi Chiaramente Perché quando sento Queste cose qui Nel calcio di oggi Francamente Non le concepisco Quindi Ci sono Delle situazioni Fluide Dinamiche Nel calcio Che ti portano Sicuramente A leggere Le situazioni In maniera diversa Quindi Se la domanda Da parte sua È legittima E la capisco Le dico Che c'è stato Un adattamento Diverso Una situazione Tattica Diversa E da questo punto Di vista Sì Però poi c'è da vedere Lo sviluppo dinamico Con quanti giocatori Palleggi Quanti giocatori Porti dentro le linee Quanti giocatori Porti sopra palla Oggi io penso Che sia fondamentale Saper contare Saper contare Saper contare Quanti uomini Sono sotto palla Quanti uomini Sono sotto palla Saper contare Per avere La parità numerica Davanti O dietro Questo è fondamentale Questo è fondamentale Gli sviluppi dinamici Di una partita Portano Un sistema fluido E quindi Alle varie variazioni Che si possono essere All'interno Della partita stessa Un'ultima domanda Da parte del signor Antonino Caravella Agenzia Stampa Italia Ritornando Scusi La partita di domani Contro il Como Il Como Ha un attacco Sicuramente interessante Con Diciamo Dei giocatori Esperti E ha fatto E' vero che Da quello che leggo Qui 14 gol All'attivo Però anche Ha una difesa Che subisce Parecchi gol 13 Quindi Domani Scusi Pensa Di variare Il modulo Di gioco O ciò E' un influente Ai fini Anche diciamo Della partita Io penso Che il Como Sia un'ottima squadra Ben allenata In salute Nell'ultime Sei partite Ha un attacco Importante Perché Gli Ozzi Cerri È un attacco Importante Ma la squadra In sé Per sé È importante Quando leggo Su No qui Il Como È la sorpresa La sorpresa È il Perugia Il Como È partito Con altri Gli obiettivi Gli obiettivi Diversi E quindi Sappiamo Benissimo Della forza Noi Prima dobbiamo Risolvere I dubbi Che abbiamo Nella nostra squadra In base a varie situazioni E ve l'ho detto Una volta Che abbiamo Le idee chiare Su chi schierare Vediamo Come opporsi A loro Cercando di Fare la nostra partita Mettendo in campo Quelle che sono Le nostre caratteristiche I nostri punti di forza Consapevoli Di chi abbiamo davanti Per i quali Sempre un massimo rispetto Ma per tutti